Energia Vigore fisico e spirituale, fermezza di carattere, deriva dal tardo latino energia, parola usata da Aristotele nel senso di azione efficace. Composta da En, particella intensiva, ed Ergon, capacità di agire. Non c'è più turco che fuma troppo e che bestemmia senza perché. Non c'è più gallo che canta presto, il contadino non sa dov'è. Non c'è contagio per chi va in giro con un amico che zoppica. Non c'è persona autosufficiente che faccia cose un po' meglio di altre tre. La testa tua, come la mia, non ha bisogno di regia, ma energia. La testa tua, come la mia, non ha bisogno di regia, ma energia. Non c'è più gatto che mangi tripa e forse ne è sempre stato allergico. Non c'è più lupo vizioso e calvo e neanche lupo bulimico. Qui c'è un due molto solitario che ha scelto di rimanere senza un tre. Poi c'è uno scarraffone triste e mamma sua non sa neanche più chi è. La testa tua, come la mia, non ha bisogno di regia, ma energia. La testa tua, come la mia, non può seguire una bugia, ma energia. Quella porta.